Non rendo conto, lo so perché lo leggo costantemente in rete, le persone che dicono ah vabbè ma un conto è Dio, è ovviamente il Dio, il Dio degli israeliti. Tutti gli altri non erano che idoli di pietra dietro i quali non c'era niente. Allora io penso ai Fenici, ma agli stessi Greci, agli stessi Romani. I Fenici hanno conquistato il Mediterraneo con i commerci e con le armi. I Greci hanno creato cultura che è andata in... Alessandro Magno è andato dalla parte... I Romani hanno conquistato tutto il mondo ma erano così stupidi da parlare con delle pietre e quanto tempo ci vuole ad accorgersi che dietro quelle pietre non c'è nessuno? Quante ore? Quanti minuti? Invece queste civiltà, secondo questi che sostengono queste tesi, parlavano con delle pietre perché erano dei poveri stupidi. Hanno conquistato il mondo ma parlavano con delle pietre o dei pezzi di legno. No, ciascuno parlava con il suo o con i suoi, meglio ancora. Perché non è possibile che gli israeliti fossero gli unici intelligenti. Che poi tra l'altro anche lì, all'interno della famiglia di Abramo, c'era Abramo che, fra virgolette, parlava con un individuo esistente. Il fratello di Abramo parlava con le pietre. È un fratello stupido, non so. Allora è un fratello stupido e Abramo non ha mai perso mezz'ora a spiegargli la differenza. Ma no, ma vieni a parlare col mio che lo vedi. Ecco, il mio vieni che te lo faccio vedere, no? E quando è che la smette di parlare con le tue pietre? Mezz'ora non l'ha mai persa. Cioè, capisci che non è sostenibile. Certo. Cioè, io capisco che la teologia lo deve sostenere, perché altrimenti deve riconoscere che ce ne sono altri uguali a lui. Però al di fuori del discorso teologico, le normali persone di buon senso, non c'è bisogno di essere esegeti, di essere filologi, basta reggere la Bibbia che abbiamo in casa. E uno dice, ma com'è possibile che un fratello conoscesse un individuo esistente e l'altro parlasse con delle pietre? E che i due fratelli non si siano mai... Senti, fammi un po' vedere il tuo lì, che vengo a vedere che esiste... No, ma un fratello ha sempre parlato con un esistente e l'altro, stupido, ha sempre parlato con una pietra. Basta, basta con queste favole. Grazie a tutti.